Ciao a tutti! Allora quest'oggi ci andiamo a preparare la fregola con le vongole. Abbiamo fatte aprire le vongole, ce le siamo pulite, abbiamo tenuto da parte l'acqua trattata, possiamo andare a cominciare, e quindi gli ingrati saranno a fregola, vongole, aglio, passata di pomodoro, andiamo a cominciare la ricetta. Allora in una padella andiamo a rosolare uno speggio di calcetta, eccolo, e poi ci mettiamo in un pezzetto che viene uscito, eccolo, perfetto, ne aspettiamo che soffriggi, dopodichè ci andiamo ad inserire una passata di pomodoro, e quindi ci vediamo tra poco. Allora adesso che il nostro aglio, come dicevo, non è un pezzonato, lo prendiamo tra poco, lo prendiamo, ci andiamo ad aggiungere, passiamo tra poco tra poco, ci andiamo ad aggiungere anche la nostra passata, direttamente gli ingrati. per qualche minuto. Una volta che costa per qualche minuto, uniamo le vongole, l'acqua di cottura delle vongole, prezzemolo, e poi appena bolle uniamola prima, che 9 minuti quella cosa. Tra poco. Ora che il nostro pomodoro è pronto, uniamo tutte le vongole, l'acqua delle vongole, prezzemolo, perfetto. Adesso appena bolle, inseriamo la fregola. L'abbiamo in un po' inizio. Poi il dolore già è partito, andiamo ad inserire le quattro masciate già. Perfetto, la nostra fregola. Anzi, direi che mettiamo anche un altro pomodoro. C'è chi la fa anche senza pomodoro. Perfetto. Questa 9 minuti è pronta. Voilà. E niente, ci vediamo per 9 minuti. Ragazzi, la nostra fregola è pronta con le vongoline. Eccola qua. Un po' di prezzemolo. Una grattatina di pepe. E io direi che ci possiamo andare ad assaggiare, eh? Buona buona. Eccoci qua la nostra fregola pronta con le vongole. Ci metto una ventina di minuti del cuoco, eh? Da te a te. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ci vuole un po' di tempo. E' strepitoso. Iscriviti al canale. Ciao!